Le marche appassionano la generazione Y. Per i meno avvezzi alla suddivisione generazionale ideata dai sociologi, stiamo parlando degli appartenenti alla fascia di età tra i 29 e i 43 anni, che tra i turisti che scelgono le marche fanno registrare una presenza superiore alla media italiana. Sono infatti il 43% i turisti di generazione Y che arrivano nella nostra regione, attratti in particolare dalla promessa di Relax, 36% contro il 34% della media italiana, Patrimonio Culturale, 34% contro il 31%, Cibo e Vino, 19% contro 13% e Attività Sportive, quasi 12% contro il 5% Italia. Un'offerta variegata che va oltre il mare e la montagna, tra le mete per tradizione scelte da chi va in vacanza, ma che propone molto altro. Colline, borghi, città e luoghi di interesse artistico disseminati ovunque. Un museo a cielo aperto sono state definite le marche dove il turista può vivere esperienze non replicabili altrove e che costituiscono sempre di più il fattore di scelta, soprattutto per soggiorni che hanno visto negli anni ridursi il numero di giornate di vacanza, che sono sempre più spesso itineranti. Fondamentale dunque che a un'offerta così allettante corrisponda anche quella di strutture ricettive adeguate, in grado di attrarre flussi turistici nazionali e internazionali, per cui tra risorse regionali ed europee ci sono a disposizione 15 milioni, un'occasione importante di riqualificazione necessaria ad alimentare un interesse che può trasformare il turismo in un asset strategico della nostra economia.